Ok, quindi offro 10.000 dollari, questo è un contratto pubblico, quindi se rinuncio puoi farmi causa, cosa che non vedo l'ora. Voglio offrire 10.000 dollari a chiunque possa produrre una vera barra, vera fotografia della Terra. Dovete fornire tre cose, primo il nome e la data di quando è stata scattata quella foto, conferma scientifica in particolare che è una foto reale e non un'immagine in CGI, come tutte queste balle di Natale che vedete quando scrivi foto della Terra. Questi sono tutti fumetti, se non riesci a farlo, come Mark Passio, Mark Passio è un credente del globo, questo è uno dei suoi video e lui non sa che è un uomo della libertà, come si fa a chiamare, che non sa che questo è un cartone animato. Ora, se è un credente del globo, perché non dovrebbe avere una foto reale? Quindi la sfida è la terza cosa, dovreste essere in grado di dimostrare scientificamente in modo definitivo in un tribunale e in ogni modo possibile testato scientificamente che quella è una foto vera. Quindi, 10.000 dollari da cogliere, sto facendo un contratto pubblico qui, quindi se rinuncio al contratto perché non hai fornito una vera foto che poi non farai, vieni a farmi causa e la porteremo in tribunale. E mi assicurerò che vada alla Corte Suprema, mi assicurerò che vada alla più alta Corte dell'Universo e la definiremo una volta e per tutte. Portami là, devoto del globo.